Prima dell'episodio che all'ottavo minuto porta all'espulsione di Yuri De Marco, Reo di aver buttato via la sfera dopo aver avuto qualcosa da ridire al direttore di gara che forse in un primo momento avrebbe voluto estrarre solo il cartellino giallo, alla fine arriva il rosso diretto per De Marco che poco dopo avrà anche modo di provare a spiegare la sua reazione con il DS Prelati. Dai 11 metri va lo specialista De Marco che per la prima volta della stagione però sbaglia e si fa ipnotizzare dal suo collega Zucconi. Sulla respinta ci prova di testa ancora il numero uno del Sanzisto ma nulla di fatto. Dai 11 metri va De Marco e si fa ipnotizzare dal suo collega che respinge inchiodando il finale sul 2-0 per i biancorossi.